Ed eccoci qua, una buona serata a tutti voi da Marcus, serata di estrazione 17 novembre che si è appena conclusa, era l'ottava estrazione nel mese, cellulare intasato, e inutile stare lì a vedere i riscontri, poi li rivedremo domani, magari in un secondo momento, ma ragazzi 24 e 43, ambetto secco in tutta Italia, secondo colpo di gioco, questa è l'ammata contata, ma cosa giocate i ritardatari? Ancora una volta ve lo devo dire, Cagliari è uscito il 24, secondo colpo questa sera, 24 a Palermo, secondo colpo di gioco, se usciva il 24 a Genova c'era il secondo ambetto su Genova, ma non è uscito, ma questo è un risultato sempre con l'ammata contata, vinto in mega massa in tutta Italia, ed eccolo qua lo schema eloquentissimo, questo cosa vi fa capire? Vi fa capire che tutti i numeri sono spie di se stessi e sono rintracciabili, ve l'ho sempre detto, questo è un universo scoperto da me, che vi darà tante soddisfazioni, ve l'ho sempre detto, guardate qua, lo schema era eloquentissimo, 24 che arrivava a Palermo, del Firenze e del Venezia, come il 90, questa sera si è centrato anche il 90 su Roma, ragazzi, adesso passo dopo passo andremo a vedere tutto quanto, allora, 24 che va a Genova, il 24 in ritardo e quindi, attenzione, poteva uscire anche un 43-23, è uscito un 43 a Genova, sì, non c'è stato il 24, ma se usciva, ragazzi, un 24 c'era l'ambetto anche a Genova, però arriva a Palermo, eccolo qua, quindi lo schema era eloquentissimo, il 24 non arriva in posizione a Palermo, chi se ne frega, ma arriva a Lambetto, vinto in tutta Italia, questi sono risultati con l'ambatta contata, più la nuova condizione, la tecnica che sto dicendo da giorni, che sta portando ottimi risultati e quindi, uno più uno più uno, quindi, grazie alle ricerche, grazie alle altre tecniche che vanno, quindi, a Pandam, con l'ambatta contata, con, quindi, la ricerca numerica, eccolo qua il risultato, 24-43, siamo un secondo colpo, vinto in tutta Italia, 24-43, ambetto secco, allora, questo è un primo risultato, il secondo risultato è quello del 90 che vi faccio vedere, eccolo qua, guardate cosa vi avevo fatto vedere ieri sera, quindi, nel video, no? Ma anche stamattina, se non sbaglio, 40-50, vedete? L'angolatura che va su Roma e questa sera il 90 che arriva su Roma, nella quarta posizione, eccolo qua lo schema, avete visto? Ci sono dei fuori pista, ve l'ho sempre detto, ma poi i risultati arrivano, ve l'ho anche detto stamattina, quindi portate pazienza, non sono ritardatari, i numeri arrivano e ci vogliono i loro tempi, e quindi sono cicliche queste, no? E allora, questo di Roma arriva in quarta posizione, guardate qua, questa sera, un'altra visita, quindi, nella stessa estrazione, si vince il 24-43 con ambetto secco su Palermo, secondo colpo di gioco, e poi il 90, dato da ieri sera, che arrivava proprio dall'incrocio fra Roma e Milano. Questo 90 adesso, state ben attenti, con l'ambatta contata, mi avete fatto una richiesta di fare video con l'ambatta contata, ve la farò volentieri domani, domani sera, vedremo, tanto la classifica del 90 si rifarà, perché questa ruota di Roma verrà cancellata e verrà messa quella di, guardate qua, 5, 10, 15, insomma, se voi partite di qua, saltate la ruota nazionale, arrivate qua, sono 55, quindi 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, Milano, la prossima ruota con il 90, allora sarà integrata la ruota di Milano, come il 24-42 ambetto secco su Palermo, la stessa cosa si ripete anche per tutti i numeri da 1-90, non c'entra solo il 90, qualsiasi numero è rintracciabile e quindi si può andare a vincere su ruota, ve l'ho sempre detto ragazzi, questo sistema universale e nella sua semplicità veramente strabiglia, perché i numeri arrivano veramente a ruota, sfido chiunque a trovare un metodo del genere. Ragazzi, scontrini, mandatene quanto volete, io adesso sono stanco, ve l'ho detto, arrivo dal lavoro, poi faccio le mie cose e poi rivedremo gli scontrini, ma vi ripeto, il cellulare è intassato. Allora, nuova classifica domani sera per i 90, ma ve l'ho già detto, quindi questo 90 a Milano, quindi ragazzi, si cancellerà la ruota di Roma e tutto torna, come vi dicevo, quindi questo 90 poi arriva a Milano, tutto si collega per una nuova classifica. Mandate gli scontrini e commentate pure su questo video delle vostre esperienze con la matta contatta e fatemi pure i complimenti su questo video per le vincite, perché è inutile che vi faccia vedere gli scontrini, non ho tempo ragazzi, sono stanco e poi li rivedremo insieme. Mandate pure, come vi dicevo, i vostri ringraziamenti qui su questo video. Sì, Marcus, ho vinto il 90, sì, Marcus, ho vinto il 44-43 a Palermo, scrivetelo così almeno la gente lo vede. Ci risentiamo, un abbraccione da Marcus, è tutto e aloas!